Signor Presidente della Repubblica, Signor Presidente della Camera, Signor Presidente del Consiglio, Autorità, Signore e Signori, si aprono oggi ufficialmente le celebrazioni per i 170 anni dalla fondazione di Cassa Depositi e Prestiti. Si tratta di una bella storia italiana di cui il nostro Paese può andare davvero orgoglioso e che è bene valorizzare e far conoscere. Sono lieto, in qualità di Presidente di Acre, l'associazione che riunisce le fondazioni di origine bancaria e le casse di risparmio S.p.A. di intervenire a questa cerimonia. Il CDP è un'istituzione finanziaria con una missione pubblica che in 170 anni ha saputo innovarsi più volte per adattarsi alle esigenze del Paese, senza mai perdere di vista la sua missione. Nata a Torino nel 1850, nel corso degli anni il legislatore ne ha progressivamente modificato la forma e l'operatività, fino a giungere all'assetto odierno che configura la CDP come un vero propulsore dello sviluppo dell'Italia, capace di coniugare la sua tradizionale missione di finanziatore degli enti locali con quello di partner strategico per la crescita del sistema economico. Nel corso della sua lunga storia, nel 2003, la privatizzazione di Cassa Depositi e Prestiti porta all'ingresso delle fondazioni di origine bancaria nel capitale dell'Istituto. Questo incontro non fu accidentale, né fu dettato da necessità contingenti. L'ingresso delle fondazioni di origine bancaria nell'azionariato di Cassa Depositi e Prestiti è stato il frutto di una felice intuizione e di un esito naturale di una comunanza di visione. L'intuzione per le strade della fondazione e della Cassa che potessero incontrarsi per portare insieme benefici per tutto il sistema si deve ad un uomo a cui il Paese, non solo per questa vicenda, deve profonda gratitudine. Sono lieto di ribadire la mia riconoscenza insieme ad un attestato di profonda stima all'Avvocato Giuseppe Guzzetti, che nel corso della sua lunga vita, politica di amministratore di fondazione e presidente di Acri, ha sempre prestato la sua visione acuta e lungimirante per il bene dell'Italia. Egli è stato tra i principali artefici dell'ingresso delle fondazioni nell'azionariato di Cassa. Guzzetti ha governato un processo complesso, perché il nostro Paese è tradizionalmente carente di investitori istituzionali e le fondazioni di origine bancaria rappresentano una fortunata eccezione. La cosiddetta legge Ciampi del 1999 ha definito le fondazioni soggetti che perseguono contemporaneamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico. E a questa duplice missione essi adempiano con la loro attività erogativa e con l'impiego dei loro patrimoni. In CDP le fondazioni sono state un nucleo stabile di azionisti pazienti, attenti alla redettività di lungo periodo e non alla massimizzazione del profitto. Peraltro il rendimento è sempre stato più che soddisfacente. Le fondazioni intendono la partecipazione in CDP come uno strumento in grado di amplificare l'impatto della loro azione realizzata attraverso l'attività erogativa. Inoltre, le fondazioni sono enti caratterizzati dal forte radicamento territoriale che lavorano insieme alle energie più attive dei diversi microcosmi che compongono il nostro Paese e questo si sposa alla perfezione con la rinnovata attenzione di CDP ai territori. In CDP le fondazioni sono stati azionamenti rispettosi, ma non passivi. Nel rispetto dei ruoli hanno saputo contaminare l'operato di cassa, portando il loro contributo in termini di idee, di esperienze e di competenze. L'esempio migliore di quanto queste due missioni si incontrino è di come l'apporto dei due soggetti produca un risultato più grande della somma delle parti e l'esperienza dell'housing sociale. Nato da una sperimentazione di alcune fondazioni, il programma nazionale di housing sociale, lanciato dal Governo italiano nel 2009, si è rivolto a persone svantaggiate che non riescono ad accedere al mercato immobiliare ma che sono escluse dall'edilizia popolare. Tramite fondi di investimento locali, sostenuti dalle fondazioni e dal Fondo Nazionale, Fondo Investimenti per l'Abitare, il piano prevede di realizzare poco meno di 20.000 alloggi nel Paese, dei quali circa un quarto sono già disponibili, ed è oggi una delle esperienze più avanzate sul fronte della rigenerazione urbana. Questo, come altri esempi, testimoniano gli esiti positivi di un modello di partenariato CDP-Fondazioni, che può essere ancora approfondito e sperimentato in altri campi. Ma il perseguimento della missione delle fondazioni non si esaurisce, ovviamente, con l'intervento in CDP. Centrale per le fondazioni di origine bancaria rimane il presidio della coesione sociale, quale prerequisito irrinunciabile per qualsiasi piano di sviluppo. Perché non c'è crescita reale e duratura se questa non va a vantaggio di tutti e non contribuisce a ridurre le disuguaglianze nella nostra società. Per questo le fondazioni continuano a progettare e realizzare iniziative per ridurre la povertà. Su tutto, il Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile, per favorire lo sviluppo del Mezzogiorno attraverso la Fondazione con il Sud, che rappresenta un validissimo strumento di infrastrutturazione sociale e un'esperienza unica di partenariato tra fondazioni e terzo settore. L'inserimento lavorativo e l'autonomia dei disabili, la cura domiciliare degli anziani non autosufficienti, la formazione e il rinserimento dei detenuti, l'accoglienza e l'integrazione dei migranti e dei minori stranieri non accompagnati, il sostegno alla creazione del cosiddetto ecosistema dell'innovazione, ovvero incubatori e spazi di co-working. Tutto questo pone le fondazioni tra i principali sperimentatori e attori del cambiamento del nostro Paese, di fatto protagonisti di una rivoluzione gentile verso lo sviluppo sostenibile. In conclusione, il bilancio di questi 16 anni di partecipazione delle fondazioni in CDP è estremamente positivo e il ruolo svolto dal Comitato di supporto degli azionisti di minoranza è stato certamente prezioso. Le fondazioni ribadiscono, quindi, il loro impegno convinto al fianco di Cassa Depositi e Prestiti. Anche nei prossimi anni le fondazioni saranno molto attenti a che venga tutelato il risparmio privato di 27 milioni di risparmiatori affidati a CDP, che venga garantita la redettività e la sostenibilità dei suoi impieghi, coerentemente con lo Statuto della Cassa. Rinnoviamo, quindi, i nostri migliori auguri di buon lavoro al nuovo presidente di CP, Giovanni Gorno Tempini, e ribadiamo il nostro ringraziamento agli illustri colleghi che lo hanno preceduto, Salvatore Rebecchini, Alfonso Iozzo, Franco Bassanini, Claudio Costamagna e Massimo Tononi. Per il futuro siamo certi che Cassa Depositi e Prestiti consoliderà il suo radicamento territoriale e continuerà a supportare l'innovazione e la crescita del Paese per concorrere, come ha sempre fatto, alla promozione di uno sviluppo sostenibile e inclusivo dell'Italia. Le fondazioni di origine bancaria saranno al suo fianco. Grazie. 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 Grazie.